cari amici di vox italia tv benvenuti ad un nostro nuovo approfondimento sono molto lieto di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi c'è marco guzzi poeta filosofo e fondatore dei gruppi darsi pace grazie guzzi per essere venuto da noi grazie a te dell'ospitalità e un caro saluto a tutti quanti i nostri ascoltatori ecco siamo ancora nel pieno di una vera isteria di massa da mesi oramai da anni media mainstream continuano a incasellarci dentro un clima fatto di paure indotte agenti più fragili insomma quelli che fanno più fatica a ragionare criticamente sono chiaramente assorbiti mossi da questo clima eccezionale quindi sono devastati dalla paura che porta all'immobilismo però c'è anche chi invece si sforza di trovare delle ragioni più profonde per demistificare l'opera tra virgolette del mago che tutti terrorizza ecco noi oggi proveremo a fare questo con te marco analizzando i diversi livelli di manipolazione che il sistema usa per tenere diciamo i popoli sott'acqua quali sono questi tre livelli che tu individui sì io credo francesco che intanto dovremmo tutti ricordare che l'ossessione informativa fondata così su numeri dati questioni gelide senza senso non nasce col covid c'era anche prima cioè prima era diciamo un'informazione ossessiva di tipo economicistico ti ricordi lo zero virgola lo spread cioè comunque venivamo terrorizzati sempre da fattori numerici gelidi e insensati che il sistema utilizzava per confonderci appunto impaurirci farci sentire impotenti e colpevoli adesso questa ossessione numerica possiede ovviamente uno strumento straordinario che è il covid cioè l'epidemia con tutta la paura che porta con sé quindi noi dobbiamo tenere sempre presente che questa situazione non nasce col covid ma c'era anche prima e come dicevi tu questa crisi che è una crisi di civiltà va letta secondo me per essere compresa meglio su tre almeno livelli su cui opera cioè c'è un primo livello che è quello più evidente cioè una crisi terminale della democrazia occidentale in realtà ripeto non è il covid che l'ha manifestata c'era anche prima mi ricordo che nel 2017 era uscita un'indagine di una grande agenzia sondaggistica europea europea european broadcasting union che diceva che l'ottanta per cento dei giovani europei tra i 18 e 34 anni aveva una sfiducia totale nella classe politica e in italia questa percentuale saliva al 94 per cento quindi c'è una crisi una crisi di idee della democrazia occidentale negli ultimi 30 40 anni che ha portato poi ad una crisi morale no tu ricordi che negli ultimi decenni uno dei temi centrali della politica in occidente non solo in italia è stata la corruzione ecco perché c'è stata la rivolta contro le caste non è che la rivolta contro la casta non avesse alcuna ragione d'essere aveva e come ragione d'essere perché c'erano e come caste corrotte che schiavizzavano e schiavizzano i popoli quindi c'era una grande crisi ideale di idee della democrazia una grande crisi morale e una grande crisi sociale che ha portato negli ultimi 30 40 anni a dei livelli di disuguaglianza che non si erano mai visti addirittura luciano gallino dice che una disuguaglianza di questo tipo non c'era nemmeno sotto i faraoni quindi questo è il primo livello il primo livello è una crisi terminale della democrazia occidentale che come dice abermas ormai è in gran parte un teatrino di maschere dietro il quale poteri non democratici cioè il finance capitalismo delle multinazionali muove i fili della classe politica senza alcuna resistenza e direi che in questi anni in questi mesi anche in italia questa verità si stia appalesando in maniera drammatica però dietro questa crisi della politica del discorso politico c'è una crisi culturale più profonda cioè non è un caso che diciamo la politica occidentale a partire se vogliamo dare una data emblematica dal 1989 dalla svolta neoliberista della Thatcher di Reagan e dalla omologazione neoliberista del centrodestra e del centrosinistra mondiali non è un caso che questo neoliberismo abbia trionfato con i suoi falsi discorsi di neutralità tecnica amministrativa questo è stato causato da una crisi culturale più profonda dell'intero pensiero occidentale quindi noi viviamo una crisi di divisione di visione filosofica culturale pensa semplicemente al livello adesso non facciamo nomi però insomma pensa al livello degli intellettuali in Europa negli ultimi 30 40 anni cioè è difficile fare dei nomi cioè pensa semplicemente che ne so la situazione in Europa nei precedenti 30 40 anni cioè diciamo dagli anni 20 30 agli anni 60 70 cioè in Europa c'erano personalità enormi anche diciamo di opinioni diverse però insomma in filosofia c'era Heidegger c'era Gentile capisci c'era Adorno c'era Orkheimer c'era Marcuse c'era Elliot in poesia c'era Ungaretti c'era Montale capisci e noi chi ci abbiamo facciamo molta fatica a fare dei nomi di questo livello quindi c'è un problema serio di rianimazione della cultura occidentale del pensiero occidentale che sta vivendo io dico un coma diabetico da alcuni decenni e questo che ha poi come dire alimentato la svolta neoliberista cioè non è che questi hanno preso il potere politico e culturale così l'hanno preso perché non hanno trovato alcuna posizione adeguata non c'è stata e non c'è perché manca l'energia filosofica di un'opposizione a questo livello e ancora più radicalmente a mio parere questa crisi culturale dipende da una grande crisi antropologica cioè noi stiamo veramente in un passaggio antropologico di umanità che non sappiamo ancora interpretare e quindi siamo smarriti siamo confusi facciamo anche fatica ad elaborare una nuova cultura una cultura della trasformazione antropologica che secondo me però si può elaborare ci sono i presupposti una rilettura del novecento in questa chiave ci può dare l'energia per rinnovare una cultura della trasformazione antropologica che a sua volta potrà animare anche una nuova politica no della nuova umanità questo è un pochino il quadro come lo vedo ecco molto interessante molto preciso io poi vorrei approfondire soprattutto l'ultimo aspetto quello della crisi antropologica che mi sembra molto serio molto originale però prima voglio tornare ad una suggestione che ho offerto in apertura del tuo intervento cioè tu hai detto ma non è che lo stanno facendo adesso con la crisi sanitaria questo teatrino questo giochino che manipola le menti utilizza la paura lo facevano anche prima con l'austerità solo che adesso hanno cambiato i termini mentre prima magari ogni giorno saliva lo spread oggi fanno salire i positivi e generano lo stesso lo stesso meccanismo di paura ecco quindi è una giostra che gira sempre allo stesso modo ma fa cambiare soltanto di volta in volta quelli che ci salgono ecco utilizzano lo stesso schema e cambiano il complemento oggetto ecco sono alla fine ripetitivi nelle loro costruzioni malvagie ci verrebbe in mente quel famoso quella famosa immagine sulla banalità del male cioè fanno sempre le stesse cose però cambiano diciamo i meccanismi finali che servono per controllare la gente e questo il senso della della tua prima risposta esattamente e per capire questo a mio parere bisogna capire qual è lo scopo cioè perché viene diciamo orchestrata questa magia informativa questa ipnosi informatica perché perché questa ossessione battente a tambur battente no loro insistono 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 giocano sulla ripetizione calcola quante volte vengono detti i contagiati durante una giornata centinaia di volte perché lo fanno ecco è questo che ci dobbiamo chiedere e abbiamo degli strumenti per capirlo cioè lo scopo è la distrazione lo scopo è distogliere la mente dal vero problema distrarti da quello che è il vero problema e il vero problema è quello che abbiamo detto il vero problema è che questo sistema che noi chiamiamo se vuoi finance capitalistico se vuoi neo liberistico però a livello filosofico dovremmo dire riduzionistico disumanizzante alienante capisci questo sistema sa che è arrivato alla stazione termini sa che se gli uomini poco poco si fermano a pensare capiscono che è un trucco che è un gioco al massacro che non possiamo andare avanti con la produzione consumo consumo produzione produzione consumo crescita 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 perché abbiamo capito che questa modalità di vivere sulla terra non è sostenibile sta devastando il pianeta ma ancora più sta devastando le anime le persone sono devastate e questo loro non possono permettere che emerga e allora ti debbono distrarre ti debbono distogliere da te stesso non ti devi ascoltare non devi sentire il tuo dolore non devi sentire il grido che emerge dalla terra che emerge dalle mucche pazze che emerge dalle sperimentazioni sugli animali che emerge dall'acqua e dalla plastica che distrugge gli oceani capisci non devi sentire questo grido e quindi loro debbono distrarti in una maniera sempre più violenta e ossessiva ecco il perché dobbiamo capire il perché di questo matrix che viene orchestrato tutti i giorni c'è un motivo serio e il motivo serio è semplice non devi pensare non devi ascoltarti non devi sentire il tuo dolore non devi pensare che ci possano essere alternative o vie di uscita devi soltanto sperare in quello che loro ti propongono oggi il vaccino solo quella è la salvezza solo quella non farti alcuna illusione non devi pensare ad altro questa è la modalità di sopravvivenza di un sistema al collasso ecco tante volte questo sistema gioca nel nell'affibbiare diciamo del dei termini dispregiative nei confronti di tutti quelli che non accettano di giocare con le carte che portano loro quindi ci sono i negazionisti i complottisti poi diventano nazisti insomma ci sono sempre le solite insomma le soliti tre timbri che mettono sulla schiena di quelli che non si piegano ora tu prima dicevi c'è questo sistema c'è un circuito che sta costruendo queste queste cose queste suggestioni questo mondo ora non è poi così aleatorio perché io ad esempio quando si domanda ma chi fa parte di questo circuito ieri nei giorni scorsi leggevo un'intervista di tony blair l'ex premier inglese che adesso guarda caso si occupa di vaccini e sponsorizza la vaccinazione di massa è lo stesso uomo che ha cavalcato il terrorismo islamico per fare le guerre in medio oriente che ha cavalcato le crisi economiche per imporre il terrorismo economico e che ora cavalca il terrorismo sanitario per imporre diciamo per imporre alcune scelte quindi è legittimo utilizzando la logica e non la teoria della cospirazione immaginare che quest'uomo è parte portavoce di circoli un po più nascosti che lavorano scientificamente per applicare alcuni metodi tu ci credi a questo tipo di strategie che le elite possono applicare ecco caro francesco io credo che noi dobbiamo essere molto lucidi e molto razionali cioè alcune cose sono sicure sono state anche studiate c'è uno studio per esempio dell'università di zurigo fatto da matematici che ha individuato quello che loro ritengono essere come dire il cuore del potere mondiale no quello che possiamo chiamare il potere finanziario mondiale che sono una cinquantina di corporation in gran parte anglosassoni e americane questo si può accertare non è difficile no quindi ci dobbiamo però mantenere su un livello di ragionevolezza proprio per non cadere in un complottismo inutile un complottismo che è inutile nel senso che poi non ottieni i risultati rivoluzionari che vorresti ottenere quindi dobbiamo mantenerci come dire nei limiti di ciò che è in qualche misura dimostrabile poi è chiaro che io posso pensare lo dice anche questa ricerca dell'università di zurigo che esista anche all'interno di questo nucleo centrale di 50 grandi corporation un nucleo ancora più piccolo loro dicono a quel livello non siamo arrivati non siamo stati capaci di arrivare ma non è escluso che ci sia una concentrazione sempre maggiore perché questo è direi la tendenza di questo neo capitalismo della sorveglianza delle multinazionali telematiche e dell'informazione che poi comunque l'accentramento è sempre stata la tendenza del capitalismo ma questo ancora più quindi accentrare monopolizzare il potere in mani sempre più limitate quindi possiamo facilmente vederlo questo ripeto citavo luciano gallino luciano gallino nei suoi libri fa un elenco di quelli che sono secondo lui i membri di questa oligarchia no che sono appunto i grandi manager i grandi partecipanti alle organizzazioni internazionali tipo unione europea banca centrale e anche il mondo dello spettacolo del giornalismo e della cultura ha serviti a questa diciamo modalità di distrazione di massa e che ti devono distogliere dalle grandi domande ti devono distogliere quindi questo credo che sia abbastanza palese lo dice habermas cioè un filosofo socialdemocratico che questi poteri finanziari multinazionali transnazionali poi controllano i sistemi politici governi e controllano i sistemi mass mediatici le televisioni basta vedere gli ospiti di tutti i talk show di tutte le reti televisive principali italiane per renderti conto che l'oligarchia esiste come e seleziona con attenzione i suoi protagonisti diciamo le maschere da teatro da mettere in scena tutti i giorni affinché la distrazione sia sempre maggiore e l'uomo venga abbandonato sempre di più senza chiavi di lettura cioè capisci loro ti debbono fare vedere non filosofi ti debbono fare ascoltare non poeti ti debbono fare ascoltare non politici affinché il trucco rimanga dominante e le voci alternative siano sempre più marginali questo è il grande problema per cui io già da due tre quattro cinque anni ma in realtà da 30 dico che il problema alla fine iniziale è la comunicazione la bastiglia oggi è la rai io ho combattuto per quanto ho potuto anche negli anni di questo nuovo consiglio di amministrazione per ottenere degli spazi minimi di alternativa informazione ma ho trovato un muro d'acciaio o un muro di cemento armato anche da parte di questi nuovi amministratori che fino a qualche anno fa come foa parlavano degli stregoni dell'informazione e denunciavano loro le cose che sto denunciando io adesso poi sono diventati i presidenti della rai ma che cosa abbiamo visto è facile fare gli eroi quando si è fuori dalle stanze del potere poi molto più difficile farli quando ti danno magari quello che ti aspetti che una forma questa anche tra virgolette di corruzione intellettuale di prostituzione forse più che di corruzione il termine più esatto di prostituzione intellettuale lavorazionismo io lo chiamo collaborazione una cosa quando sei in un luogo e poi insomma cambi completamente quando hai delle responsabilità insomma di sicuro non è un bel vedere e quel libro era buono di fuo effettivamente quello che hai citato sì tu hai detto una cosa torniamo a quello che hai detto all'inizio hai detto ci sono più livelli di manipolazione un livello è sicuramente quello che riguarda il martellamento mediatico poi ce n'è uno culturale e ce n'è uno antropologico cioè che riguarda la natura stessa dell'uomo il suo modo di pensarsi di avvertirsi anche dal punto di vista finalistico teleologico cioè qual è il compito dell'uomo su questa terra esiste una legge morale cioè le grandi domande sono tutte fuori dal circuito della comunicazione prevalente proprio perché l'uomo deve essere deve essere reso più bestiale e meno diciamo spirituale in questo senso marco esiste una guerra allo spirito dell'uomo è una guerra spirituale quella che siamo chiamati a combattere o è un termine che ti sembra troppo enfatico assolutamente no è esattamente una guerra spirituale cioè nel profondo del problema politico della democrazia c'è un problema culturale filosofico nel profondo del problema filosofico di una carenza di idee c'è un problema spirituale cioè lo spirito dell'uomo oggi è come incatenato ad una configurazione ormai insostenibile per spiegarci il tipo di umanità che ha in mente il neoliberismo e la cultura nichilista che c'è dietro il tipo di umanità è un io individuo atomizzato isolato che quindi deve combattere contro tutti è l'idea liberale di questa aggo di questo agonismo sociale siamo tutti contro tutti l'uomo è il lupo all'uomo ecco questa modalità di essere io è falsa cioè l'io umano non è così nel profondo del suo spirito del mio spirito del tuo spirito francesco e dello spirito di ogni persona che ci sta ascoltando c'è una più profonda consapevolezza che noi siamo uniti nello spirito che noi siamo una unità sia pure molteplice ognuno è se stesso ma siamo anche tutti uniti e questo è quello che oggi ci dice anche la scienza cioè la scienza schrodinger un grande premio nobel del ventesimo secolo inventore della meccanica quantistica in una famosa conferenza lui disse vi devo dire una cosa da fisico non da metafisico né da mistico noi siamo tutti un'unica cosa la nostra separazione è come diceva einstein un'illusione ottica della coscienza in realtà noi siamo uniti è un po l'idea dell'ecologia profonda siamo un unico organismo vivente allora è questo che noi dobbiamo capire se noi riusciremo a sentire a incamminarci perché è un lungo cammino verso una coscienza relazionale cioè che l'io umano è sempre in relazione con gli altri con il creato con gli alberi con le stelle con l'aria e quindi si deve prendere cura di queste relazioni perché se no si autodistrugge se noi a quel livello che è quello più profondo ecco il livello antropologico riusciamo a far nascere germogli di questa nuova umanità allora l'uomo vecchio l'uomo egopatico egocentrico individualistico chiuso nei propri interessi e quindi predatorio nei confronti dell'altro e degli altri andrà in cantina dove deve andare a deve andare nel cesso nell'immondezzaio della storia perché ha compiuto il suo ciclo tu adesso hai presentato un un quadro molto interessante dove proponi che l'uomo si metta in pace in relazione non soltanto con se stesso ma anche con quello che tu definisci il creato con la natura no quindi diciamo prospetti una 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 nuova umanità che in pace con se stesso e col mondo circostante che sia in grado di trovare diciamo un equilibrio cosmico un equilibrio complessivo un equilibrio universale questo tipo di atmosfere si riscontrano in alcuni in alcune encicliche di papa francesco che sono state molto criticate una del una in particolare ecco quella dove lui diciamo sembrava volere divinizzare questo concetto di natura che a detta di alcuni invece è chiaramente una eresia tu ti ritrovi in alcuni diciamo di questi passi delle encicliche di francesco allora questa domanda caro francesco è molto complessa intanto voglio dire che io non sono un illuso né un romantico inteso in senso generico cioè io ritengo che quello che ho descritto sarà un processo millenario cioè molto lungo la svolta antropologica di cui ho cercato di dire alcune cosette e che ho poi motivato in una trentina di volumi per chi volesse in circa mille video che si possono trovare su youtube è lunga è molto lunga non è una cosa così perché cambiare ognuno di noi in quella direzione è un cammino quotidiano cioè tutti i giorni io debbo in un certo senso uscire dalla mia gabbia egopatica egocentrica e dilatarmi nella sfera dello spirito quindi capiamoci bene nessuna palingenesi da un giorno all'altro nessuna idea rivoluzionaria di tipo novecentesco che ha portato soltanto catastrofi e fiumi di sangue il magistero di papa francesco dal mio punto di vista va analizzato e ha certamente delle parti che concordano pienamente con quello che sto tentando di dire ci sono molte parti della laudato sì ma anche delle vangeli gaudium che vanno in questa direzione c'è una fortissima condanna della tirannide invisibile dei sistemi tecnocratici e finanziari che dominano il mondo quindi su tutta questa parte è chiaro che c'è una concordanza da parte mia anche se conosco tutte le critiche anche aspre che vengono fatte a papa francesco da da altre parti e io credo che anche qui non si deve cadere in una unilateralità inutilmente violenta ed estremistica quindi il papa è il papa per i cattolici quindi è un'autorità fondamentale svolge una funzione fondamentale che è quella dell'unità della chiesa il papa può anche avere opinioni sbagliate io posso anche non essere d'accordo con molte cose che dice il papa senza per questo contestarne l'autorità ex cattedra ma noi sappiamo che diciamo il fatto che il papa non sbagli vale soltanto per la parte dogmatica quindi è solo ex cattedra che diciamo infallibile non sulle sue opinioni politiche e nemmeno culturali con le quali si può discutere per esempio a mio parere nell'ultima enciclica omnes fratres ci sono delle parti in cui si rischia di non chiarire che noi non siamo figli della terra cioè per un cristiano dire che noi siamo figli della terra mi sembra abbastanza errato perché secondo la tradizione cristiana noi siamo figli di dio non della terra noi siamo pellegrini sulla terra noi non abbiamo come dice san paolo una dimora stabile su questa terra siamo pellegrini verso la vera patria che non è questa terra per cui questa eccessiva esaltazione della terra può creare confusione così come può creare confusione l'idea che noi siamo tutti figli di dio per natura noi non crediamo questo dal punto di vista cristiano noi diventiamo figli di dio no san giovanni nel prologo dice che il signore ci ha dato il potere il potere di diventare figli di dio se ascoltiamo la sua parola e crediamo nella sua presenza sant'agostino ha chiarito molto bene che la figliolanza divina non è per natura cioè gli uomini non sono per natura figli di dio l'uomo l'uomo può diventare figlio di dio per grazia no e grazie alla fede nel figlio di dio questa è diciamo quindi ci sono a mio parere nel magistero di francesco alcuni pericoli che andrebbero corretti e segnalati ecco molto interessante anche questo passaggio perché noi abbiamo più volte sostenuto diciamo una tesi precisa che fibbia delle responsabilità questo papato nel tenere in piedi questo clima di paura proprio perché è una guerra spirituale nessuno può non notare come francesco abbia secondato in ogni modo difeso la legittimità diciamo dell'utilizzo di questo terrorismo mediatico intorno al covid sostituendo l'acqua santiera con il gel per le mani trompendo i sacramenti alcuni non hanno avuto l'estremuzione perché positivi insomma dando l'impressione che la priorità è salvare il corpo che non piuttosto che l'anima in estrema sintesi questo globalismo politico che diciamo può vincere soltanto nella misura in cui riesce ad appiattire tutte le culture tutte le identità ha bisogno di uno che relativizzi al massimo il cattolicesimo per renderlo diciamo compatibile con tutto il resto cioè il super ecumenismo è l'altra faccia del globalismo politico sì anche qui io credo che bisogna essere attenti e distinguere sono tematiche molto belle e molto complesse in primo luogo vorrei ricordare che per la fede cristiana il corpo è importante quindi bisogna salvaguardare il corpo cioè io non mi scandalizzo più di tanto del fatto che nella cerimonia liturgica ci sia l'igienizzazione delle mani gradirei di più accenti di rinnovamento spirituale questo sì gradirei di più che la chiesa non si limitasse a essere come un'ennesima agenzia di controllo o di educazione civica perché non è questo il compito della chiesa la chiesa deve in qualche modo spiccare fuori dalle logiche di questo mondo senza diventare diciamo antisociale ma facendo la sua funzione che è quella dell'annuncio di una follia dell'annuncio di una libertà folle che trascende questo mondo il signore ha vinto questo mondo quindi noi siamo su questa terra e siamo anche attenti a questa terra amiamo questa terra però non apparteniamo a questa terra e non apparteniamo a questo mondo no io ho vinto il mondo voi non siete di questo mondo dice il cristo quindi vorremmo sentire di più questo scarto di libertà che poi lo scarto della rivoluzione in occidente cioè i moti rivoluzionari in occidente nell'ultimi mille anni direi almeno sono nati quasi tutti da questa intuizione del regno di dio che trascende questo mondo e quindi può giudicare le ingiustizie di questo mondo e quindi certamente certamente se noi anacquiamo del tutto la differenza cristiana cioè se noi non ricordiamo cosa vuol dire che l'incarnazione del verbo scatena nella storia il giudizio finale su tutta la storia umana se noi questo lo anacquiamo in una pappa falsamente ecumenica perché non è ecumenismo diventa qualunquismo certamente perdiamo gli elementi fondamentali della fede cristiana e l'energia fondamentale della rivoluzione in occidente che noi dobbiamo invece recuperare recuperare purificandola e riportandola alle sue sorgenti spirituali più profonde. Marco tu pensi che questa elite che utilizza di volta in volta armi diverse la paura del terrorismo islamico che poi all'improvviso svanisce la paura del fallimento economico che poi se non perché all'improvviso svanisce ora il turno della paura di ammalarsi e vedremo senso svanirà probabilmente quando troveranno una paura ancora peggiore ecco tu credi che questa elite alla fine sia imbevuta di una spiritualità precisa magari perversa che tende a divinizzare l'uomo cioè tu pensi che questi si vogliono sostituire a dio si sentono delle divinità loro stessi in terra per cui pretendono di scacciare dio dai cieli per farsi adorare loro in terra cioè tu intravedi una spiritualità nera dietro l'operato di questa elite o sono semplicemente uomini senza dio senza volto che hanno senza anima che hanno solo desiderio di accumulare ricchezze materiali ma guarda nello schema cristiano ebraico cristiano il male nasce da una separazione da dio e questa separazione che è simbolizzata nella caduta no nella caduta di Adamo questo allontanamento è una disobbedienza cioè l'uomo l'essere umano pretende di stabilire lui cos'è il bene e il male no ti ricordi mangia dall'albero della conoscenza del bene e del male che non vuol dire che dio volesse impedire che l'uomo distinguesse il bene dal male lo poteva distinguere già Adamo nell'eden ma voleva dire arrogarsi il diritto di stabilire noi cos'è bene e cos'è male allora questo è il principio del male di ogni male e quando noi prendiamo quella via cioè dell'arroganza della presunzione di stabilire noi le leggi della vita noi siamo dal punto di vista biblico satanici siamo satanici cioè siamo ispirati non dallo spirito di dio dallo spirito del creatore dallo spirito della bellezza del creato ma siamo ispirati da uno spirito distruttivo da uno spirito che vuole decreare direbbe simone veil simone veil non creare ma decreare cioè distruggere e non c'è alcun dubbio caro francesco che la spiritualità che c'è dietro questo individualismo che oggi si manifesta come consumismo come alienazione come ossessione informativa come mistificazione e direi immiserimento della lingua ma tu ti rendi conto il linguaggio che viene utilizzato nei talk show ossessivamente un linguaggio violento un linguaggio gelido ecco la spiritualità che c'è dentro e dietro tutto questo è sicuramente disumana anti umana e quindi se vogliamo diabolica l'intelligenza e quindi per concludere ancor più che uno sia credente uno sia non credente questo poi sono problemi naturalmente personali ma dobbiamo essere consapevoli che è una lotta nello spirito cioè dobbiamo contrastare questo spirito disumano che ci vuole distruggere e lo possiamo fare perché ogni essere umano sa che dentro di sé c'è anche un altro spirito c'è uno spirito amante c'è uno spirito che ama la vita che ama cantare che ama stare insieme alle persone nella libertà ecco per noi per un cristiano questo è lo spirito della nuova umanità del cristo vivente ma anche un non credente oppure una persona che segue il buddismo che segue l'induismo che segue l'ebraismo che segue l'islamismo mi capisce bene quando dico queste cose quindi noi dobbiamo aggregare tutti gli uomini e le donne che abbiano coscienza di questo spirito nascente dentro di loro per combattere questa che a mio parere è una sfida ultimativa definitiva cioè stiamo rischiando seriamente di andare in una notte molto buia. Marco il transumanesimo e l'intelligenza artificiale sono il parossismo di questa controcreazione satanica dell'uomo? Non c'è dubbio cioè quello che viene chiamato transumanesimo diciamo l'illusione di potere sostituire o superare l'uomo attraverso le macchine o peggio di dovere sostituire l'uomo con strutture artificiali questa idea è un'idea precisa è un'idea che biblicamente si potrebbe definire idolatria perché fin dal tempo dei profeti ebraici Isaia, Geremia, i grandi profeti che cosa dicevano loro? Chi è l'idolatra? L'idolatra è l'uomo che si mette a venerare cose fatte da lui, arte fatte. Quando tu ti metti ad adorare una statua di pietra che hai fatto tu o quando tu ti metti ad adorare un computer o una struttura anche complicatissima di algoritmi dell'intelligenza artificiale che comunque hai fatto sempre tu, tu sei veramente un'idolatra e quindi ancora una volta tornando al discorso di prima tu ti stai sottoponendo ad uno spirito antidivino, ad uno spirito diabolico che appunto ti vuole separare dal vero Dio e dalla vera adorazione che ti libera, mentre adorare gli artefatti, adorare le macchine ci rende sempre più schiavi. Grazie Marco è stato un grande piacere averti con noi, spero di riaverti presto ai nostri micro. Grazie a te, tanti auguri e ci sentiamo quando vuoi. Cari amici di Vox Italia TV si conclude così un nostro nuovo approfondimento insieme al filosofo e poeta Marco Guzzi, come sapete il nostro compito è quello di provare di andare in profondità, stimolare lo spirito critico senza avere la pretesa di offrire a nessuno verità rivelate o dogmi, il nostro obiettivo è solo quello di costruire una, di dare una mano alla pubblica opinione affinché nessuno perde il senso critico, affinché tutti possono esercitare un diritto ad esprimersi liberamente, a ragionare intorno alle cose che vengono dette, cioè a recuperare ciò che di speciale c'è nell'animo umano che è la capacità di valutare, di analizzare, di non seguire soltanto un istinto semi bestiale ma di utilizzare questi che sono i doni più grandi che ognuno di noi ha ricevuto nella pienezza delle proprie potenzialità. Ecco questo è il nostro compito, sappiate che noi non vogliamo imporre nessun dogma di fede, ogni tanto leggo qualcuno dice ma abbiamo sentito uno che diceva una cosa e uno che ne sentiva un'altra, quando avremo la verità rivelata ve la presenteremo per quella che è e condanneremo tutti quelli che si discostano dal nostro circuito, ma fino ad allora cercheremo di farvi ascoltare molte voci differenti però non ci siamo mai nascosti, abbiamo sempre detto qual è la nostra visione dell'uomo e del mondo, di sicuro chi ci segue con assiduità sa bene cosa pensiamo, non ci mascheriamo dietro un dito però non confondiamo mai l'avere delle legittime idee su quello che succede con una sorta di fanatismo o con un desiderio di scomunica complessivo nei confronti di tutti quelli che non la pensano come noi, la nostra più grande vittoria sarà quella di non farci mai incattivire e di non diventare mai come è oggi il mainstream che ci attacca e ci diffama, grazie a tutti voi, vi ricordo che tutto questo può continuare soltanto grazie al vostro aiuto, potete aiutarci ai numeri che la regia ha mandato in sovraimpressione oppure se volete darci un po' di respiro, ecco di corda lunga, ecco di corda un'immagine brutta, di fiato lungo diciamo, potete andare sul nostro sito www.voxitaliatv.com e abbonarvi, grazie alla prossima